Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati carissimi amici e telespettatori di Fano TV Questa è la rassegna stapa del mattino, sono le 7.30 e siamo come sempre in diretta per sfogliare i giornali che tra poco vedremo e che troverete in edicola ovviamente Allora partiamo dal santo del giorno innanzitutto e vediamo il santo di oggi Oggi la chiesa ricorda San Sergio di Radonez, il sole sorto alle 6.58, tramonterà alle 19.01 Allora il fronte freddo con residui fenomeni sulle isole, questa è la pagina di Trebbi Meteo le temperature giù oltre gli 8-10 gradi centigradi, possiamo dire che ce ne siamo accorti Ieri a un certo punto ha rotato il vento a metà mattinata e si è improvvisamente coperto il cielo e poi nel pomeriggio insomma è arrivato anche il forte vento che come vedremo tra poco ha causato anche notevoli problemi e disagi relativamente a rami e alberi caduti Allora questa è la previsione del tempo per oggi martedì 25 settembre Siamo sul sito della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento nelle zone interne, le temperature saranno in diminuzione Per la giornata di domani, mercoledì 26 settembre, ancora cielo sereno poco nuvoloso per il transito di lievi velature, non ci saranno precipitazioni comunque anche se il sole a volte finirà sotto qualche nuvoletta però avremo ancora venti moderati da nord-est, tratti forti anche lungo la fascia costiera e poi giovedì 27 invece il cielo sarà sgombro da nuvole a parte qualche residuo a nuvolosità in fondo alla regione Marche sui Sibillini però insomma le temperature saranno in aumento, i venti prevalentemente di moderata intensità Avremo comunque tempo stabile anche nella giornata di venerdì Come sempre siete in tanti a mandarci fotografie all'inizio della mattinata intorno alle 7, 7 e un quarto, qualcuno anche prima per fotografare l'alba, il sole che sorge Questa volta però abbiamo una novità Abbiamo una novità perché un nostro telespettatore è più precisamente Luca No, Enrico da Pian di Meletto questa mattina ha scattato questa fotografia Potrebbe essere il sole, potrebbe essere l'alba In realtà non è l'alba, è la luna È la luna a Pian di Meletto di questa mattina Una fotografia scattata alle 6 Quindi la luna che sta tramontando Che sta, sì, tramontando Mentre il sole dall'altra parte che sta sorgendo L'ha fotografata quest'alba Roberto Dalla spiaggia di Sassonia di Fano Grazie, mi dispiace per gli altri Ma non è che possiamo farle vedere tutte Insomma, quindi comunque voi continuate a mandarle Allungheremo l'estate Questa è l'apertura del resto del carino di questa mattina Il tempo bello fino a ieri mattina c'è stato tempo bello Svolta dell'assessore regionale al turismo Pieroni che dice Allungheremo appunto l'estate I bagnini però aggiungono Noi siamo disponibili però servono più eventi per attirare le persone Perché è inutile che teniamo le spiagge aperte Quando poi non ci sono i turisti La tempesta scuote la costa Grossi rami sfiorano i passanti A Fano la bora violenta stende anche i pali della luce Albero secolare cade in strada a Lucrezia Super lavoro dei pompieri Ma nessun ferito Ecco allora la pagina con le fotografie dei vigili del fuoco Pubblicate sul quotidiano Il resto del carino di questa mattina Tempeste e forti raffiche di vento Bora fino a 60 km orari 26 interventi dei vigili del fuoco Calo di 8 gradi Questo è l'albero che è caduto in viale della Repubblica a Pesaro Mentre a lato un tronco spezzato dal vento Sempre in viale Trieste In alto invece una strada Qui vedete Una strada ostruita a Fano La cronaca Ho solo punito chi derubò la mia ragazza Chi è che parla? Parla colui che è stato arrestato Dopo aver rapinato sul San Bartolo le ballerine La notte fra giovedì e venerdì Tre marocchini portano sul San Bartolo Due entranez E le rapinano La squadra mobile li arresta poche ore dopo Sorprendendoli nelle loro case di Urbino 2 È stata una rapina dunque per vendetta Una punizione che avrebbe voluto dare a una delle due ragazze Rea di aver portato via da casa sua A Urbino 2 Soldi, anellini e altri oggetti Della sua fidanzata Due di questi tre Che sono stati appunto portati in carcere Restano dietro le sbarre Il più giovane Libero però con l'obbligo di firma Il ladro di valigie Dovevo mangiare Dice invece un altro che è stato arrestato E che adesso davanti al giudice Questo pugliese Arrestato in via Venturini Dice Si è giustificato Non avevo i soldi per mangiare Ho provato Poi lui ha provato a dare anche una testata ai militari Mentre si trovava in caserma Quindi è accusato di altri reati Questo 22enne pugliese Che è stato arrestato l'altro giorno dei Carabinieri Per il furto di due valigie E 14 euro da una casa Al primo piano in via Venturini Nella quale abita una famiglia Di origine marocchina Andiamo sulle pagine di Urbino Questa è la fotografia di un camion C'è stato un tamponamento tra camion Con fiamme e anche tanta paura Distrutta la cabina di uno dei mezzi L'intervento dei vigili del fuoco scongiura il peggio Ieri pomeriggio in superstrada Nello svincolo tra Urbino e Fermignano E poi sotto a Montegrimmano Terme La protesta del sindaco La regione ci ha tagliato fuori Dal nuovo piano di ciclovie Il territorio ha bisogno di un confronto interregionale Su molti temi comuni La pagina di Fano invece del resto del Carlino I bambini non vaccinati rinunciano all'asilo Anche gli otto che erano regolarmente iscritti E frequentanti non si sono presentati Sotto il caporalato al centro della settimana africana C'è l'iniziativa che parte organizzata dall'Africa Chiama Ospite e leader del primo sciopero Dei braccianti stranieri in Italia Che è stato fatto nel 2011 Che è appunto questo ragazzo che vedete qua sotto Con la foto pubblicata sul giornale Poi la segnalazione Il reportage di Stefano Merisola Consigliere comunale Che ha fotografato alcune vie E alcuni monumenti della città di Fano Fano che si appresta a iniziare la festa dei fiori La settimana dedicata ai fiori E Merisola dice altro che festa dei fiori Il centro città è pieno di erbacce Il pincio viene abitualmente frequentato Da decine di ratti E insomma praticamente non ci manca niente Disabili in trasferta Invece per questo gemellaggio solidale Il gruppo in trasferta a Rashtat Per otto giorni Dunque una vacanza tedesca Per alcuni fanesi Bocciodromo Siamo a Fossombrone Lavori pronti al via Il comune di Fossombrone ha trovato Una soluzione allo stallo amministrativo Se tutto va bene Dovrebbero ricominciare a settembre I lavori per la riqualificazione del bocciodromo Comunale Questo incipit L'avevano già scritto a fine giugno E adesso sono pronti A fine settembre Questa volta pare che ci siamo davvero Dice il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci Sarebbe stato risolto togliendo Le finestre da una parete del lato piscina Insomma sono beghe Come dire A carte bollate Insomma questa è un po' la situazione Che tiene fermo Questo bocciodromo Ormai da troppo tempo Wim Wenders Alla scoperta del pittore Ridolfi Affrontone Regista Durante la visita al castello E' andato a scoprire L'autore dei Calanchi Emozionato il figlio dell'autore scomparso nel 1983 A 60 anni di età Urbino La politica Verso le elezioni Del prossimo anno Torno dalla Vietnam Non penso a candidarmi Dice Piero Sestili Del PD Senza unità Gambini Rischia di vincere Smentisce dunque Sestili le voci Gli impegni lavorativi Mi porteranno Dice lui Fuori E poi Nessun dialogo Con chi toglie I soldi Alla città I Polini I Verdi Contro la proposta Dei Cinque Stelle Sull'assemblea Permanente Cittadina Dalla E qui cambiamo giornale Andiamo sul Corriere Adriatico E' l'ora Dei Deors Coperti Ma non c'è Regolamento Che cosa sono i Deors Sono quegli spazi aperti Dove vengono installati Tavolini Sedie E che adesso Con l'arrivo Del freddo Dovranno essere coperti Non tutti però Verranno E avranno Come dire L'autorizzazione Per essere coperti Dunque riscaldati Anche per Coloro che vorranno Stare In questi spazi aperti Però Al chiuso Tra virgolette Una folla in marcia Per San Terenzio L'arrivo del maltempo Non ha scoraggiato I fedeli Che hanno animato Il percorso Ieri I pesaresi Hanno festeggiato Il loro patrono Ecco allora Le fotografie Che pubblica Il Corriere Adriatico Questa mattina Davvero Tanta gente In processione Una folla In preghiera Tutti Verso La cattedrale In testa Ovviamente L'arcivescovo Di Pesaro Piero Coccia Incontro Incontro Invece Sul Rondò E strada Chiusa Belloni E Ricci Nella Fossa Dei Leoni Siamo sempre a Pesaro Un'assemblea A Borgo Santa Maria Il presidente Comes dice Speriamo che i toni Siano tranquilli Nonostante la soluzione Rende il quartiere Più sicuro Sono tanti Contrari A questi Provvedimenti Insomma Questa è la discussa Rotatoria Di Borgo Santa Maria Che non piace Presidente Che tante polemiche Sta innescando Poi piogge e raffiche di vento Da ieri è arrivato l'autunno Oltre 30 interventi Dei vigili del fuoco Per piante E cartelli Che sono caduti Tra cui anche degli scooter Che erano parcheggiati lì Insomma E che sono stati abbattuti Che sono stati buttati giù Dal vento Progetto Renco Per il nuovo ospedale Quello di Muraglia Doppio esposto Ad Anac E Ministero Iniziativa dei 5 Stelle Che segnalano Il finanziamento elettorale Ricevuto Da Ceriscioli E alcune inchieste Giudiziarie E poi sotto Scienze infermieristiche L'anno parte Regolarmente Studenti e docenti Ospitati Nella sede di Viale Trieste Di Pesaro Che è la sede Di proprietà Marche Nord Ricorderete Qualche tempo fa Si parlò invece Dello sfratto E poi la strada La strada Siamo sempre Sulle cronache Del Corriere Adriatico Da Mondolfo La strada È sbarrata Anche per le ambulanze Del 118 Ambulanze che non Passano dunque Malumori Dei residenti Di Via Torre Così adesso Non ci sentiamo Più sicuri Queste sono le fotografie Questa è la transenna Che vedete Al centro E sotto Via Monte Ciappellano Sconnessa Invece Per Le Per le buche E poi Da Vallefoglia Alla ricerca Della plastica perduta Un'iniziativa che si è svolta Nei giorni scorsi Poi Da Urbino Tra Sanni La scuola È chiusa Solo disinteresse Silenzio Attacco della consigliera Del Movimento 5 Stelle Emilia Forti Gambini A colpe A colpe dirette Scarabucci Agorà Ducale Un buon inizio Sempre da Urbino Avvicendamento Tra Dem E Movimento 5 Stelle Ma l'ex segretario Chiude All'attuale Amministrazione Da Fano La pagina Del Corriere Adriatico La titolo d'apertura Il Palazzo Borgoggelli Avveduti Offerto Alla fondazione Carifano La contesa Scusate La contessa Non c'entra niente Con la contesa La contessa Lo propone Al prezzo Di un milione E quattrocentomila euro Via libera Dell'ente All'acquisto Dunque Questo palazzo Palazzo Tra l'altro Anche molto bello Palazzo Borgoggelli Avveduti Già Zagarelli Sarà acquistato Dalla fondazione Carifano È un edificio storico Realizzato A cavallo Tra il 600 E il 700 In via San Francesco Realizzato Dalla famiglia Zagarelli Sarà l'ultima operazione Patrimoniale Della fondazione Cassa dei risparmi Di Fano Sotto la presidenza Di Fabio Tombari Perché Il suo mandato È in scadenza Il prossimo Il prossimo anno E sotto L'Africa Chiama Premia l'oppositore Del caporalato Riconoscimento A Seignette Nella settimana africana Invite a pranzo Dei rifugiati L'aveva già detto L'avevamo già letto L'invito L'invito del presidente Del fondatore Di questa Ong fanese Italonanini Che aveva chiesto Di ospitare Appunto A pranzo A tavola Insomma Uno di questi Di queste Di queste persone Appunto A settembre L'inversione di tendenza Aumentano le coppie Che si sposano Restano prevalenti I matrimoni Con rito civile Tariffe comunali Più alte Per l'ex chiesa Di San Francesco E per chi decide Di sposarsi In spiaggia Settembre È il mese Dei matrimoni C'è stata La calura estiva Questo è il mese Ideale per celebrare Una cerimonia Destinata a rimanere Nei ricordi Di tutta una vita E Che cosa occorre fare Occorre una delibera Per autorizzare Le nozze alla Rocca Perché adesso C'è anche questa possibilità Questa nuova Collocazione Questa nuova location Eccezioni furono Teatro E biblioteca Insomma I matrimoni affanno Questo è il riquadro Civili Dall'inizio del 2018 Sono 71 Mentre 50 Quelli dell'anno scorso Religiosi 63 Mentre furono 46 L'anno scorso I fanesi Che si sono sposati Fuori Fano 20 finora 28 l'anno scorso Coppie non residenti Che invece Si sono sposate A Fano 10 quest'anno 8 l'anno scorso Tutti i dettagli Nell'articolo Che troverete Sul Corriere Adriatico In edicola Questa mattina Sotto invece Si parla anche Della tempesta di vento Che spezza rami E abbatte alberi Anche a Fano Alcune delle conseguenze Del vento Ieri all'ora di pranzo Vedete rami Che sono caduti In alcuni casi Sulla strada In altri Senza però Causare feriti Anche addosso Sopra A delle Automobili Parcheggiate Disco verde Invece al Mancini Lo stadio Che domenica Ospiterà La prima partita Casalinga Del nuovo Campionato Di serie C Del Fano I lavori Superano L'esame Della commissione Che ieri Ha già fatto Un sopralluogo Domani Ce ne sarà Un altro Per vedere Altri accorgimenti E se tutto Andrà bene Insomma Domenica Si potrà giocare Senza problemi Carnevalesca Invece I tre dissidenti Quindi due vicepresidenti Il consigliere Che hanno dato Le loro dimissioni Hanno scritto Quella lettera Con le loro Dimissioni Revocabili Ebbene Rivendicano Il reintegro All'interno Della carnevalesca Dimissioni Già ritirate È illegittimo Secondo loro L'out Out Ok Sotto invece La storia Di questi 20 bambini Esclusi Dalla materna Per quanto riguarda Le vaccinazioni È scaduta La diffida Dei servizi educativi Nessuna Però Regolarizzazione Come abbiamo detto Anche nel nostro Telegiornale Ieri Questi bambini Con i propri genitori Non si sono presentati Comunque ieri a scuola Valmetauro Immobilismo Urbanistico Solo 3.000 euro Di oneri La minoranza Contesta l'inerzia Dell'ufficio Siamo a Fossombroni Il sindaco Dice Entro dicembre Le pratiche Saranno smaltite Sotto Invece Da Colli al Metauro 30 scrittori E 50 poeti Con Idee book L'ultima pagina È quella di Senigallia Del Corriere Adriatico Eventi VIP E forni A cielo aperto C'è profumo Di pane nostrum Da giovedì a domenica La festa dell'arte bianca In piazza Tra gli ospiti Brunelli E Marchetti È tutto Per quanto riguarda La nostra rassegna stampa Grazie per essere stati con noi Ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia E questo è il numero di telefono Come sempre Per le vostre segnalazioni Arrivederci Grazie Grazie a tutti